La certezza di emozionare, la voglia di nuovo, i desideri, la fantasia, sono finalmente liberi di sconfinare verso sorprendenti forme espressive capaci di farvi rivivere quelle stesse dolcissime emozioni, quell'identica meravigliosa atmosfera, quegli attimi imperdibili, le splendide immagini che realizziamo vengono studiate, tagliate e trasformate per mettere in luce la preziosa e impalpabile trama dei vostri sentimenti e delle vostre emozioni. La certezza di emozionare, la voglia di nuovo, i desideri, la voglia di nuovo, i desideri, Grazie a tutti! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.